L'elezione di Renzi è segretario, cambia qualcosa? Non credo proprio, perché sono uomini dell'apparato. Fino a venerdì scorso, giovedì scorso, l'unico partito a muovere qualcosa sulla legge elettorale all'interno di questo palazzo è il Movimento 5 Stelle. Abbiamo richiesto l'incardinamento immediato in Prima Commissione, Renzi ha detto che in sette giorni vuole la legge, basta che spinga il Presidente di Prima Commissione a incardinare la legge così come il Movimento 5 Stelle ha richiesto.